35esima Assemblea Anci, nazionale Anci, dopo due giorni di serrati colloqui e di incontri penso si possa trarre un bilancio decisamente positivo. I sindaci e i comuni quindi hanno riaffermato la loro necessità di supporto da parte del governo, abbiamo sentito anche da alcuni ministri delle aperture interessanti su temi che ci stanno particolarmente a cuore, quindi credo che l'Assemblea sia veramente il luogo nel quale quelle che purtroppo qualcuno definisce le due Italie ma che due Italie non sono, una sola è, si incontrano e si danno un obiettivo comune che è quello della crescita del Paese e del benessere dei cittadini visto dal punto di vista dei sindaci.